Abbiamo avviato questa nuova campagna di sensibilizzazione proprio per invitare ulteriormente la gente ad evitare gli abbandoni. Stiamo cercando di formare i cittadini perché ci rendiamo conto che nonostante il grosso lavoro che stiamo portando avanti comunque i cittadini fanno ancora fatica a seguirci. Però noi siamo abbastanza ottimisti, adesso avvieremo una serie di iniziative sulle spiagge, anche le guardie ambientali faranno formazione sulle spiagge. Quindi andremo a dire ai cittadini che la tutela del territorio è importante, è importante il decoro urbano e quindi tutti gli strumenti che noi stiamo fornendo serviranno a loro insieme a noi per poter rendere questa cittadina pulita ed accogliente. Iniziando adesso con alcune delle attività di sensibilizzazione che riteniamo comunque determinanti per cercare soprattutto di andare a colpire le fasce di età, quindi i ragazzi soprattutto, perché comunque abbiamo notato già quando siamo usciti da questo lockdown di avere grandi problemi con i ragazzi, soprattutto durante il weekend. Quindi proprio per questo motivo la maggior parte dei progetti di sensibilizzazione interessano soprattutto i ragazzi. Tra i vari progetti che porteremo avanti saranno alcuni progetti all'interno delle scuole, sia come webinar, sia come attraverso alcune lezioni che verranno fatte in classe, altri progetti che verranno fatti invece sulla spiaggia durante il periodo estivo e anche questi interesseranno per la maggior parte i ragazzi, sia sull'utilizzo e il riciclo di carte plastica, sia per quanto riguarda la tutela del fratino, che qui a Termo è molto presente. Per quanto riguarda invece quei progetti che sono più indirizzati agli adulti, diciamo così, il più importante è Quartiere Pulito, con il quale cercheremo di andare nel quartiere per evitare innanzitutto l'abbandono di ingombranti a RAE che spesso ci costringe a tantissimi interventi quotidiani e soprattutto per cercare di tenere massimamente puliti quei quartieri dove tendenzialmente si va meno a fare spazzamento o pulizia approfondita.